Facciamo questa tappa di questa terza settimana di Quaresima qui nella chiesa, nella parrocchia di Santo Stefano a Gaeta e un saluto intanto a voi e poi a quanti ci stanno seguendo con Radio Civita e gli altri mezzi della diocesi. Stiamo piano piano allargando la nostra famiglia e tanti si uniscono a questo momento che vuole un po' scandire la nostra Quaresima intesa quest'anno come un esodo. Noi siamo sempre in esodo, sempre in uscita, sempre abbiamo bisogno di liberarci da un Egitto e trovare una terra promessa. E in questo cammino stasera abbiamo ascoltato la lettura del brano dell'esodo che ci riporta al momento più importante del cammino del popolo nel deserto. È il momento in cui si annuncia che fra questo popolo che abbiamo visto nelle settimane precedenti era dominato spesso dalla paura, dalla sfiducia, che perdeva spesso il senso del cammino e se la prendeva a turno ora con Dio, ora con Mosè. E finalmente questa sera abbiamo ascoltato il brano in cui accade che Dio vuole legarsi ancora di più con questo popolo che è poi il segno di tutti i popoli nel tempo e nella storia. Una lettura attenta di questo testo ci mostra che qui lo scrittore sacro non ha voluto solamente fare una cronaca, darci una notizia, ma ha raccontato le cose in maniera che questo racconto sia valido per ogni generazione e anche per noi che abbiamo a che fare con questo momento nel deserto perché noi siamo i figli della nuova alleanza, ma non ci sarebbe nessuna nuova alleanza se non ci fosse stata questa alleanza. E c'è nel racconto, vedete, una breve indicazione geografica e c'è l'incontro, la descrizione dell'incontro fra Mosè e Dio con la proposta di questa alleanza al quale proprio alla fine della pagina che abbiamo letto il popolo reagisce positivamente. E poi finalmente al versetto nono abbiamo la manifestazione di Dio. Se avrete modo di leggervi con calma il brano, si ha l'idea che Mosè sembra che salga due volte sul monte Sinai. La prima volta per ricevere la proposta di Dio e la seconda volta per riferire la decisione del popolo. Sono delle descrizioni fatte con una grande sensibilità narrativa. Un po' si spiegano le cose come vanno fra Dio e gli uomini alla stessa maniera con la quale vanno fra noi uomini e quindi le cose si dicono, si ridicono. Perché sale Mosè? Qual è l'oggetto? Che cosa lo spinge a salire sul monte? Ci viene detto che il motivo è ascoltare una parola. Mosè sale sul monte Sinai per ascoltare una parola, che è la parola di Dio. La protagonista di questo brano, di questo racconto, di questa alleanza, è la parola. E questo è già un elemento di attualità. Non c'è relazione fra persone se non si parlano. E la stessa cosa è fra noi e Dio. Dio può stare in silenzio, ma non è muto. La sua parola ci raggiunge sempre. Per noi la sua parola è una persona, è Cristo stesso. Allora guardiamoci, guardiamoli questi spazi che sono messi in scena. Vedete quante volte, se avete il brano davanti agli occhi, lo potete con più facilità notare, quante volte si parla del deserto. Lo spazio dominante di questa pagina è il deserto. Il deserto che sta di fronte al monte Sinai e nel quale il popolo sta accampato. Si immagina che questo monte Sinai sia un vulcano. Arrivarono nel deserto, dice il brano, giunsero nel deserto, si accamparono nel deserto, Israele si accampò nel deserto. E' una ripetizione che per noi che questo esodo man mano lo stiamo leggendo evoca tanti altri momenti, perché tutto quello che è accaduto fino adesso è accaduto nel deserto, soprattutto è nel deserto che Mosè ha appreso il nome del roveto, di Dio che bruciava nel roveto. E' nel deserto che Mosè ha capito la sua missione verso il popolo, e' nel deserto che Dio in questo deserto si rivelerà al suo popolo. E bisogna quindi tener presente questo deserto. Non si potrà uscire da questo deserto, ci dice il brano che abbiamo letto, senza che ci sia un incontro con Dio. Dio è un incontro che noi possiamo fare nei nostri deserti, ma è Lui stesso che si incarica di farci uscire dal deserto. L'incontro con Dio è decisivo e necessario per uscire da quel calore, da quella sabbia che per antonomasia è ostile alla vita. Allora nei nostri deserti, quelli personali, quelli ecclesiali, quelli che coinvolgono tutta l'umanità, quanto se dovessimo disegnare il mondo, quello che stiamo vivendo, le relazioni, quanto ci servirebbe e ci verrebbe utile il colore del deserto. Quando noi facciamo esperienza delle condizioni ostile della vita, ci rendiamo conto che non siamo capaci di uscire da soli, ci rendiamo conto che abbiamo bisogno che qualcuno ci aiuti ad uscire dai nostri deserti. E allora possiamo certamente dire che questo nostro tempo provato, ma anche molto dotato di mezzi e di strumenti, questo nostro tempo, lo stiamo toccando con mano, rimane insabbiato senza un incontro con Dio. Noi siamo capaci di, e siamo talmente intelligenti e bravi e progrediti, che siamo pure capaci di organizzarlo il deserto, in maniera tale che non sembri più nemmeno deserto. Ma certo è che un deserto è sempre un luogo estraneo alla vita, che nel deserto ci si sta, ma bisogna uscirne. Certo è che per quanto noi lo possiamo organizzare, non viviamo senza che qualcuno ci aiuti ad attraversarlo, ci dice la parola di Dio, senza l'incontro con Dio. Ci può capitare di accomodarci nel deserto. Capita a tutti, capita anche a noi. E quando è che ci accomodiamo nel deserto? Quando smettiamo di attendere, quando accettiamo che l'unico orizzonte che abbiamo è la sabbia, quando a un certo punto smettiamo di crederci. Mi sto insistendo su questo, perché io credo che anche nella Chiesa può nascere la tentazione di fare come se non dovessimo incontrare nessuno, di fare come se l'unico orizzonte è quello della sabbia, di fare come se Dio non esistesse. E questo ci accade ogni volta che siamo rassegnati. Il racconto ci dice che Dio stesso però si preoccupa di creare una via d'uscita dal deserto. E per questo, per aiutare questo popolo ad uscire dal deserto, chiama Mosè e gli dice sali sul monte. E leggiamo, no, con calma questa manifestazione di Dio, no, che chiede a Mosè, lo chiamò dal monte dicendo di salire e poi questo dirai, questo annuncerai e comincia a raccontare agli israeli di quello che serve loro per riprendere fiducia, per riprendere coraggio. Nel parlare a Mosè, Dio gli racconta quello che è accaduto, gli racconta quello che era accaduto fino a quel momento, gli racconta l'uscita dall'Egitto, gli dice guardate, voi avete visto e poi gli dice voi sarete. Gli racconta il passato e gli fa vedere il futuro. La prima cosa che dobbiamo fare noi per uscire dai nostri deserti, la prima cosa è vedere, cioè leggere gli avvenimenti con lo sguardo della fede, che significa vedere Dio presente nella nostra storia. Questo debbono fare gli ebrei. Si debbono rendere conto che se sono arrivati fino a quel punto è perché Dio li ha condotti. Stanno camminando verso la libertà perché Dio li ha voluti liberi, perché Dio li ha visti liberi. Ecco, l'invito che viene fatto a questo popolo è vedersi come li vede Dio. Dio li vede un popolo, li vede liberi e chiede loro impegnatevi ad essere come vi vedo io. E credo che questo sia tanto importante perché io penso che la fatica che facciamo è proprio questa, di non riuscire a vederci come ci vede Dio. Probabilmente le persone più sfiduciate di noi stessi siamo proprio noi che ci rassegniamo a come siamo fatti. E anche verso il mondo noi spesso abbiamo uno sguardo rassegnato anche verso gli altri. li vediamo come sono e non pensiamo che possano essere altro e soprattutto non li vediamo come li vede Dio. Io credo che ci sarebbe utile pensare a questo sguardo di Dio e capire questo sguardo come un suo impegno concreto e infatti continua a parlare a Mosè dicendo che quello che lui vuole crede vede nel popolo lui lo vorrà realizzare. Lo vuole questo popolo lo vuole libero e lui non si rassegna a non vedere realizzato quello che lui vede. c'è in tutto questo brano dell'esodo e in tutto l'esodo un itinerario di uscita un itinerario di cammino per poi entrare nella terra promessa. Dell'uscita il popolo tende a dimenticarsi oppure come abbiamo visto nelle volte passate la contesta come fronte di guai. Certo è che senza uscita non ci sarebbe questo viaggio e questa liberazione. E allora lui parlando dell'uscita lo scrittore sacro dice e usa un'immagine bellissima che è quella delle ali d'Aquila dice ricordatevi come io vi ho fatto uscire su ali d'Aquila. Ecco l'immagine delle ali d'Aquila rende sicuri riguardo all'uscire ognuno di noi perché se noi dobbiamo uscire dal nostro personale Egitto bisogna pure che in questo uscire in questo camminare in questo affrontare il deserto qualche sicurezza ce l'abbiamo. La sicurezza è Dio che si comporta verso di noi come un'Aquila si comporta verso i suoi figli Dicono i Rabbini c'è una cosa che nemmeno Mosè può fare nei confronti di questo Papa di questo popolo Dicono come un'Aquila che porta i suoi piccoli sulle ali mentre tutti gli altri volatili tengono i loro piccoli fra le zampe perché gli altri volatili temono gli altri uccelli che volano sopra di loro l'Aquila al contrario che vola più alta di tutte teme solo l'uomo che può colpirla con una freccia giacché non c'è altro uccello che può volare sopra di lei perciò pone il piccolo sulle ali pensando che sia meglio che la freccia colpisca lei piuttosto che il figlio Dio disse anche io faccio così e questa è tutta la storia della liberazione voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di Aguila e vi ho fatto venire fino a me io credo che questa immagine delle ali di Aguila evoca in noi cristiani l'immagine della croce quando pensiamo che è meglio che una freccia colpisca l'Aquila piuttosto che i suoi piccoli penso che non possiamo non pensare all'amore che noi vediamo nel Cristo crocifisso che è quello di farsi colpire piuttosto che farci colpire e questa immagine della croce ci viene in mente e ci fa nascere una preghiera la preghiera di non sprecare l'amore di chi ha preferito farsi colpire piuttosto che farci colpire questo forse è un aspetto della nostra preghiera cristiana che forse rendiamo un po' a non sviluppare più ma proprio mettersi di fronte alla croce semplicemente commuovendosi di questo fatto ma guarda piuttosto che far colpire me ti sei fatto colpire tu è un racconto di comunione che non deve essere spiegato deve essere sentito e l'alleanza nasce in questa atmosfera quando Dio comincia a dire va bene tutto ma soprattutto capite questo che voi per me siete come i piccoli per un'aquila ed è qualcosa che ci deve scaldare rassicurare tranquillizzare c'è poco da capire non c'è nessuna relazione con Dio se non c'è questa consapevolezza di essere così importanti per lui e non c'è nessuna trasmissione di fede se non questa ti voglio raccontare quanto sei importante per Dio ma quante cose diciamo noi per trasmettere la fede ma è questa comunione l'unica che riesce a trasmettere la fede perché ti fa commuovere perché ti scalda il cuore perché ti fa sentire forte protetto questa è la testimonianza di fede che dobbiamo darci gli uni e gli altri e che noi possiamo dare a tutti noi siamo lo scopo di Dio il pensiero di Dio e allora lo capiamo no? come siamo ingiusti quando guardando la nostra vita guardando le nostre schiavitù guardando i nostri Egitto i nostri fallimento e anche il fallimento del nostro tempo così disorientati noi ce la prendiamo con lui ma certo lui preferisce essere colpito come di fatto viene colpito piuttosto che farci cadere ricordatevi dice Dio a Mosè che io sono quello che è libera dall'Egitto quello che è libera dalla schiavitù e non quello che organizza la schiavitù continua il testo ora se ascolterete la mia alleanza dopo aver parlato di questo Dio comincia a parlare del suo progetto di alleanza e dice ora se ascolterete la mia alleanza se vorrete ascoltare la mia alleanza il testo originale ebraico non dice se ascolterete ma dice proprio se vorrete ascoltare proprio con un atteggiamento di di rispetto d'affetto no ed è straordinario perché tutto questo progetto tutto questo cammino tutto questo processo di libertà di liberazione che lo ripeto è simbolico per tutti i popoli e per tutti gli uomini tutto è consegnato alla volontà degli israeliti se ora voi vorrete sono liberi sanno quello che è accaduto ora possono decidere se ascoltare o meno ma non debbono ascoltare una legge debbono ascoltare una voce cioè il suono di una presenza che ti dà sicurezza è come se qui si dicessi ora se vuoi puoi decidere di scoprire e custodire la mia presenza la mia voce proprio come fa una persona innamorata con la voce della persona amata sapete c'è un bellissimo episodio che succede alla metropolitana di Londra la metropolitana di Londra che è enorme c'è in una stazione nelle stazioni come anche nelle nostre si annuncia la fermata ma prima di questi mezzi digitali c'erano delle persone che registravano la voce e in una di queste stazioni c'era la voce di un signore poi questo signore è morto e la moglie andava tutte le mattine ad ascoltare il marito che diceva il nome della stazione poi hanno sostituito questa stazione questa voce con una voce di queste qui digitali lei un pochino lo ha scritto non so chi e l'hanno rimessa è l'unica stazione di Londra in cui c'è ancora la voce registrata ma perché la voce è l'amore è l'amore vivo è l'amore che non muore l'amore che rimane sempre presente che consola che rafforza allora dice Dio in questo momento se vorrete ascoltare la mia voce cioè se mi volete sentire presente se mi volete sentire vicino e ecco se ci dice puoi decidere di stare nel mondo come io sono stato con te quando ho vegliato sul tuo accampamento puoi decidere se stare nel mondo come colui che è sveglio che veglia oppure no questo è grande è terribile questa responsabilità che ci viene messa nelle mani noi con il nostro volere siamo capaci di realizzare o di annullare la presenza di Dio nella nostra vita ma questa è una cosa che ci fa pensare se vorrete voi sarete se vorrete continua il brano che abbiamo ascoltato voi farete ancora il popolo non lo sa il contenuto dell'alleanza qui siamo ancora in una fase in cui non lo sa il popolo che in che cosa consiste questa alleanza le regole di questa è alleanza ma Dio dice a Mosè non si tratta di condividere clausole o comandamenti ma ti chiedo e chiedo a questo popolo la volontà di fidarsi così tutto quello che Dio dirà e farà loro lo accoglieranno prima ti fidi poi accogli prima ti fidi poi credi volere è fidarsi è volere di fidarsi allora mi viene in mente la parabola di Lazzaro ve la ricordate che immagina un dialogo fra Enrico ed Abramo che a quello che gli chiede di poter andare ad avvisare i suoi fratelli sulla sorte infelice che gli è toccata risponde che se uno non vuole neanche se uno risuscitasse dei morti si convincerà e questo punto che è grande non sono segni che ci servono ma ci serve di sentire questa voce che ci convince che ci spinge a volere è il desiderio di non essere fra gli sfiduciati fra quelli per cui sono inutili anche i segni allora in questa quaresima in questa terza domenica di quaresima chiediamo questo che veramente nasca in noi il desiderio di fidarci della parola di Dio del suo amore di fidarci della sua presenza del suo suono prima ancora di sapere quello che mi dici so che me lo sta dicendo uno che per salvarmi la vita ha preferito essere trafitto lui stesso so che mi sta dicendo uno mi sta parlando uno che è in comunione con me che mi vuole è bene credo e concludo così che in questo tempo così complicato che da un anno stiamo vivendo questa forma della fede è veramente importante abbiamo bisogno di sentirci amati protetti curati abbiamo bisogno di sentire che Dio è nostro scudo e nostra fortezza